Vincere e convincere, e questa è la missione del Chieti domani pomeriggio all'Angelini contro il Fossombrone nella decima giornata del girone F di Serie D. All'Aquila debutta Cappellacci in panchina, Avezzano e Notaresco vogliono continuare a stupire. Fischio d'inizio su tutti i campi alle 14.30. Dopo il pesante KO nel turno infrasettimanale, prima sconfitta in campionato contro il vasto Girardi, Chianese deve ritrovare i tre punti e la prestazione contro la squadra marchigiana seconda in classifica con una lunghezza di vantaggio sui neroverdi, anche perché la capolista Samb non sembra voler rallentare la sua corsa e dà cinque punti di vantaggio sulla squadra di Chianese. Da valutare le condizioni di Ardemagni, assente a vasto Girardi per problemi fisici, l'attaccante resta in dubbio. Assente lo squalificato di Sabatino, espulso mercoledì nel finale in Molise, dovrebbe tornare tra i titolari con Son, che era rimasto in panchina nella gara infrasettimanale. Spazio anche per Masavood e Dancora. Roberto Cappellacci prova a dare la sterzata al cammino dell'Aquila dopo tre allenamenti con il nuovo gruppo. Domani gara casalinga contro il Sora. Al Gran Sasso d'Italia i tifosi si aspettano di vedere una squadra trasformata dopo la scossa dell'esonero di Epifani avvenuta due giorni fa. La società ha regalato al nuovo allenatore anche un rinforzo. Il classe 2005 è Andrea Del Moro, esterno offensivo cresciuto nei settori giovanili di Ascoli e Samb. L'Avezzano cerca ulteriori conferme delle sue ambizioni sul campo del Matese. Ferazzoli senza Roberti e Ferrani infortunati punta alla conferma dell'undici che mercoledì scorso ha battuto il campo basso allo stadio dei Marsi. Per il notaresco esame di maturità in casa contro la capolista Samb. Bruno conferma Bonfiglio in attacco, al suo fianco uno tra Belloni e Ranieri. Sulle corsie esterne Marrancone, Match Wiener a Riccione e Forcini.